Musica Primo sì del Senato alla riforma del premierato. In piazza le opposizioni annunciano battaglia in nome della Costituzione. Dalla Moldavia Mattarella ribadisce con Kiev senza cedimenti. Il capo dello Stato denuncia la disinformazione di Mosca e la definisce inaccettabile. Giovani e politica, poca fiducia, ma le nuove generazioni vogliono partecipare alla vita pubblica e potersi esprimere. Presentata oggi la ricerca condotta dall'Osservatorio Giovani dell'Istituto Tognolo di Milano alla presenza del Cardinale Zuppi che dice I giovani chiedono serietà e credibilità. Buonasera e benvenuti al TG2000. Sì del Senato alla riforma voluta dal centro-destra sul premierato, ovvero l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Le opposizioni scendono in piazza per manifestare il proprio dissenso. Vediamo allora il servizio di Augusto Cantelmi. Chiusa la votazione, il Senato approva con 109 voti favorevoli, 77 contrari, un astenuto. È il primo passaggio parlamentare per la riforma del premierato dei quattro previsti per cambiare la carta costituzionale. La maggioranza resta compatta nonostante all'interno della coalizione ci siano sensibilità diverse. Lo stesso accade anche per l'altra riforma, quella dell'autonomia differenziata che è tornata in aula alla Camera dopo la rissa della scorsa settimana. Per la premier Meloni il primerato, ossia l'elezione diretta del capo del governo, resta la madre di tutte le riforme. E per la maggioranza è una partita da portare a casa. Dalle opposizioni Renzi e Calenda parte, la risposta arriva da Piazza Santi Apostoli con la manifestazione contro le riforme del governo. Presidente Meloni, come può essere una provocazione per dei patrioti sedicenti in la volontà di consegnare una bandiera tricolore? Unità che ci dà la forza per manifestare insieme e siamo qui insieme perché lo diciamo con forza. Non permetteremo a questa destra di stravolgere la Costituzione e cambiare la forma di governo a colpi di maggioranza. Sulla riforma allora sentiamo il parere del costituzionalista Francesco Clementi e di Cesare Mirabelli, presidente merito della Corte Costituzionale. 68 governi e 31 presidenti del Consiglio naturalmente sono un problema. Questo problema si chiama instabilità di governo. Il disegno di legge approvato dal Senato cerca di dare una risposta a questo problema. Tuttavia questa è una risposta ancora incompleta. Lo è perché l'elezione diretta appare essere più uno strumento di rigidità piuttosto che invece di stabilità. Lo è perché questo presidente del Consiglio in realtà mette in discussione fortemente i poteri di garanzia, di tutela costituzionale, dell'equilibrio costituzionale del Presidente della Repubblica. Un fatto molto importante in questo tempo storico. Lo è perché non sappiamo con quale legge elettorale verrà eretto questo presidente del Consiglio. E c'è il rischio che questa legge elettorale che sarà approvata porrà forti problemi di incostituzionalità rispetto appunto a quello che noi conosciamo. L'esigenza di assicurare la stabilità dei governi è comunemente avvertita. E il disegno di legge sul cosiddetto premierato ha anche questo obiettivo. Tuttavia irrigidisce in eccesso il sistema e comprime poteri del Parlamento e del Presidente della Repubblica che in particolare in momenti di crisi possono essere assai utili per il funzionamento del sistema. Del resto il governo ha già oggi forti poteri nei confronti del Parlamento. Pensiamo ai decreti legge, ai maxi emendamenti, ai voti di fiducia. E attenzione a non immaginare che problemi politici si risolvano modificando il disegno istituzionale. E dalla Moldavia Mattarella ribadisce l'Ucraina va aiutata senza alcun cedimento. Il Capo dello Stato poi denuncia l'opera di disinformazione portata avanti dai russi. Paolo Fucili. La propaganda russa di regime tenta di infiltrarsi anche in Italia, avverte il Presidente della Repubblica Mattarella da Kishinau, capitale della Moldavia. Una diffusa tempesta di disinformazione, di fake news, di falsità, volte tutte a screditare e destabilizzare anche nel nostro paese. Sono forme di ostilità inaccettabili che richiederanno, io mi auguro solocitamente, il senso di comunità internazionale delle regole di comportamento che riguardino il rispetto degli altri paesi. Visita ufficiale iniziata ieri con trasferimento nel pomeriggio in Romania e stamana il faccia a faccia con la Presidente Moldava, Maya Sandu, col pensiero ad est, alla vicina Ucraina aggredita dalla Russia. Fermo sostegno alla sua indipendenza e integrità ribadiscono Italia e Moldavia. Il nostro aiuto a Kiev promette Mattarella. Non avrà cedimenti né indebolimenti. E sostegno anche alla Moldavia, garantisce il Presidente italiano, contro la minaccia delle interferenze russe e per l'integrazione in Europa. Per valori, per storia, per cultura, il futuro della Moldova è all'interno dell'Unione Europea. Adesso la guerra in Ucraina, mentre Kiev tenta di riprendersi alcune zone cadute in Manala, Russia, Putin in Corea del Nord sigla nuovi accordi militari. Vito De Torre. Kiev punta ad operazioni di sabotaggio per indebolire l'esercito russo. I droni ucraini hanno colpito una raffineria nella regione russa di Rostov. Un colpo importante perché la raffineria è un'infrastruttura strategica del quartier generale militare dell'operazione russa in Ucraina. L'attacco con droni è stato rivendicato da alcuni funzionari di Kiev, giustificandolo come rappresaglia contro i bombardamenti di Mosca alle infrastrutture energetiche ucraine. Dal punto di vista diplomatico, Mosca e Kiev sono immobili nelle proprie posizioni. Zelensky punta ad un secondo vertice di pace che dovrebbe tenersi prima delle elezioni americane. Putin, nel frattempo, è impegnato nella visita in Corea del Nord, al termine della quale verrà siglato un accordo in materia di sicurezza. In altre parole, un'intesa economica sullo scambio di armamenti. L'intensificarsi delle relazioni tra Corea del Nord e Russia preoccupa gli Stati Uniti. Crediamo, ha dichiarato il portavoce del Dipartimento di Stato, Matthew Miller, che chiunque sia interessato a mantenere la pace e la stabilità nella penisola coreana dovrebbe essere preoccupato. Nella striscia di Gaza, soprattutto nella zona nord, nel centro, piovono ancora bombe, così come nel nord di Israele al confine con Libano e poi ci sono le condizioni drammatiche di migliaia di profughi. Massimiliano Cocchi. Le pause tattiche che Israele ha deciso per consentire l'ingresso degli aiuti umanitari non stanno funzionando. Ieri, l'autorità militare che controlla il valico di Kerem Shalom e le Nazioni Unite si erano rimpallati, la responsabilità per gli aiuti rimasti bloccati poco oltre il confine. Oggi, invece, il valico è rimasto chiuso a causa dei combattimenti poco distanti e così gli unici aiuti per la popolazione sono stati quelli paracadutati da un aereo cargo egiziano. Nel resto della striscia proseguono i bombardamenti. 19 persone sono rimaste uccise in tre diversi raid nel campo profughi di Nuseirat. Bombardamenti e morti anche a Gaza City. Le trattative per una tregua sembrano ormai molto lontane. A preoccupare è anche il fronte nord, quello al confine con il Libano. Oggi a Beirut è arrivato l'inviato di Joe Biden per tentare di fermare un'escalation che avrebbe conseguenze imprevedibili. Ieri, a Gerusalemme, aveva già visto Benjamin Netanyahu. Il premier israeliano è costretto in queste ore ad affrontare le tensioni interne. Ieri ha dovuto sciogliere il gabinetto di guerra per escludere i suoi ministri della destra estrema dalle consultazioni militari. Come chiesto dagli Stati Uniti, i suoi rapporti con i vertici dell'esercito sono sempre più tesi. È una grande manifestazione contro il governo. Ieri sera è finita con violenti tafferugli e tre manifestanti all'ospedale. 26 bambini sono tra le decine di migranti dispersi ieri a causa del ribaltamento di una barca a vela nel Mar Iogno. Alessandra Camarca. Non si fermano le ricerche di altri sopravvissuti del naufragio della barca a vela avvenuto ieri a largo delle coste di Roccella Ionica in provincia di Reggio Calabria. Solo 12 superstiti portati a terra dalla guardia costiera e tra loro c'è una bambina di 13 anni che tra le onde ha perso i genitori. Ad affondare è stata una barca partita dalle coste della Turchia che a seguito di un'esplosione a bordo si è ribaltata a circa 100 miglia dalle coste calabresi. A bordo c'erano oltre 70 migranti e più di 60 di questi risultano dispersi, tra cui 26 bambini. C'è una situazione di una bambina che purtroppo è rimasta sola, senza genitore e senza fratelli. Abbiamo attivato subito una rete, assieme anche all'aspetto stessa, una rete di protezione più corposa per queste bambine. Poche ore prima del naufragio di Roccella Ionica, altri 10 migranti sono annegati davanti all'isola dei Conigli a Lampedusa. La nave di un ONG tedesca ha soccorso una barca in legno piena d'acqua sulla quale viaggiavano 61 migranti, 10 dei quali trovati senza vita. Salgono così a 800 i morti nel Mediterraneo centrale dall'inizio del 2024, 5 ogni giorno, ha commentato in una nota l'ONG Emergency. Hanno poca fiducia nei partiti ma vogliono essere coinvolti nella vita pubblica. Presentata a Milano la ricerca dell'Istituto Tognolo sui giovani. Luciano Piscaglia. Non hanno perso del tutto la fiducia nell'impegno sociale e politico, ma sono preoccupati del progressivo svuotamento della democrazia e chiedono di essere maggiormente coinvolti. È il quadro che emerge dalla ricerca dell'Istituto Tognolo in preparazione alla cinquantesima settimana sociale dei cattolici italiani, ricerca che ha interpellato 2000 giovani italiani dai 18 ai 34 anni. Giovani hanno difficoltà, hanno perso un po' di fiducia, hanno perso un po' di speranza, quindi forse le iniziative devono andare verso la direzione di ridare fiducia, ridare speranza e ridare voglia di partecipare alla vita politica. In pochi ormai partecipano e noi continuiamo a fare il nostro per dare un po' il nostro contributo alla vita comune e cercare un po' di senso anche in questa realtà che ci vede ormai un po' alienati. C'è una grande voglia di sentirsi parte attiva di un paese che migliora con il loro contributo e dicono che seppur difficile è ancora possibile pensare a un impegno personale per fare in modo che le cose funzioni in questo paese. Il 56% dei giovani italiani non ha votato alle recenti europee, ma dalla ricerca emerge un'elevata disponibilità dei giovani a impegnarsi per il bene comune, in particolare attraverso il volontariato, e per tre giovani su quattro è ancora possibile impegnarsi in prima persona per fare funzionare meglio il paese. Che cosa chiedono poi appunto i giovani? In realtà quello che chiedono è cose serie, chiedono responsabilità, chiedono credibilità. Io credo che nell'astenzione, leggiamo l'astenzione anche sempre come una richiesta. Ma perché non abbiamo comunicato un entusiasmo? Perché non abbiamo comunicato la bellezza dell'Europa? Stop ai diplomifici. Il Ministero revoca lo status di paritari a 47 scuole. Cesare Cavoni. Il piano voluto dal Ministro Giuseppe Valditara ha smascherato 70 scuole paritarie di secondo grado in Campania, Lazio e Sicilia. Per 47 di queste, le direzioni scolastiche regionali competenti in materia hanno già avviato le procedure per la revoca della parità. Un intervento che trova anche il plauso del Presidente della Federazione delle Scuole Cattoliche Italiane. Siamo contenti della stretta che c'è stata in questi giorni e anche del piano del Ministro Valditara per eliminare i cosiddetti diplomifici. Mele e marce. Ci dispiace che ogni anno, durante gli esami di maturità, ci siano questi cattivi modelli. Tra le mancanze più gravi, rilevate, ce n'è per tutti i gusti. Si va dagli istituti enogastronomici senza cucina e docenti senza abitazioni, passando per il numero di aule insufficienti per accogliere tutte le classi attivate, nonché l'inosservanza delle disposizioni vigenti in materia di esami di idoneità ed esami integrativi. In Kenya adesso, dove le ricadute dei cambiamenti climatici stanno incidendo anche sulla vita dei Masai. Maurizio Dischino. La siccità è arrivata nel 2017, uccidendo il nostro bestiame. Ecco perché abbiamo iniziato l'apicoltura. Esther e le sue amiche sopra le eleganti tuniche Masai adesso indossano tutte bianche, guanti, caschi ventilati e vanno verso le arnie con affumicatori e altra attrezzatura d'apicoltrici per raccogliere il miele. È la loro nuova occupazione come gruppo di donne Nasingia Oman nella contea di Kajjado, a sud di Nairobi, capitale del Kenya. A causa dei cambiamenti climatici anche il popolo Masai ha dovuto reinventarsi. Non ha abbandonato del tutto la tradizione della pastorizia, ma in questo momento storico prevale la nuova abilità, l'apicoltura, sicuramente più redditizia. Abbiamo iniziato con un gruppo di sette persone. Ora siamo 24 donne con quasi un centinaio di bambini e l'apicoltura ci aiuta a non restare inattive. Il gruppo è formato solo da donne perché proprio loro commerciavano il latte ed erano rimaste senza lavoro quando i bovini sono diminuiti a causa della crisi climatica e il commercio del latte è andato in crisi. Mungere le mucche è facile, la sfida è la conservazione del latte e il miele è più difficile da raccogliere ma il guadagno è più rapido rispetto al bestiame. Puntare sulle donne in Africa significa investire sul vero motore sociale ed economico delle comunità locali. Debutto vincente per Jan Nixiner all'Ale Hopen, la prima volta in campo da numero uno del mondo contro l'olandese Grigsburg. In Germania non è stata però una passeggiata per l'Azzurro che fatica non poco annullando anche due palle break nel secondo set per superare poi alla fine 6-7, 6-3, 6-2 l'avversario. È morta a 92 anni l'attrice francese Annouca Aimé, indimenticabile protagonista della dolce vita di Federico Fellini al fianco di Marcello Mastroianni. Vediamo il servizio di Federico Plotti. Lutto nel mondo del cinema è morta all'età di 92 anni l'attrice francese Annouca Aimé, in Italia famosissima per la dolce vita dove interpretava la fidanzata di Mastroianni e sempre con l'attore italiano protagonista anche in 8 e mezzo ancora di Federico Fellini. Tantissimi gli altri film che l'hanno vista protagonista come Un uomo, una donna di Claude Lelouch al fianco di Jean-Louis Trintignant, pellicola che le valse una nomination agli Oscar. Annouca Aimé al secolo era Nicole Francois Florence Dreyfus ed era nata a Parigi il 27 aprile del 1932. Tra i vari riconoscimenti ottenuti nella sua lunga carriera anche il Prix d'Interpretation Femminine al Festival di Cannes per il film Salto nel Vuoto di Marco Bellocchio. Nel 1980 a dare l'annuncio della scomparsa dell'attrice è stata la figlia nata dall'unione con il regista Nikos Papatakis che su Instagram ha scritto ero proprio accanto a lei quando questa mattina si è spenta nella sua casa a Parigi. Un anno fa il dramma del Titan in sottomarino imploso nelle profondità dell'oceano e che tenne con il fiato sospeso per una settimana il mondo intero. Il 18 giugno di un anno fa il battiscafo turistico Titan parte dall'isola canadese di Terranova, destinazione il relitto del Titanic, il transatlantico che si inabissò dopo aver urtato un iceberg il 14 aprile del 1912 durante il viaggio inaugurale da Southampton a New York. Furono 1.500 i morti su 2.200 persone. Per 250.000 dollari la visita prevede un'immersione a circa 3.800 metri di profondità nell'oceano atlantico. A bordo ci sono 5 persone, Stockton Rush, pilota e cofondatore di Ocean Gate, la compagnia americana proprietaria del mini-sobbergibile, Paul Henry Nargiolet, esploratore degli abissi ed esperto del Titanic, Emish Harding, ricco imprenditore britannico e l'uomo di affari Shazada Davout, con il figlio del 19enne Suleiman. Poche ore dopo l'immersione il Titan interrompe le comunicazioni con la nave che l'ha trasportato a 600 chilometri dalla costa. Il Titan implode. Solo dopo si saprà che la marina militare aveva registrato un forte suono anomalo proveniente dai fondali. Le ricerche durano diversi giorni. Il 22 giugno i pochi resti del battiscafo sono trovati sul fondale. Dei corpi dei 5 uomini a bordo non resta nulla. L'ipotesi più probabile è che l'implosione sia stata provocata dalla violenta pressione esercitata sul battiscafo, non sferico come gli altri, ma cilindrico, non composto da una lega metallica con una struttura di titanio, ma da fibra di carbonio immersa in una resina particolare. Una struttura innovativa, più leggera, meno costosa, ma non sperimentata abbastanza per evitare che diventasse una gabbia mortale. È tutto, il nostro giornale termina qui. Vi lascio adesso al film Il Giro del Mondo in 80 giorni. Buona serata.